Lei ha detto che non le piace l'atmosfera di panico che trasmettono giornali e tv sul covid perché in Italia le cose non vanno male. Ma sbaglia il governo ad anticipare la terza dose a cinque mesi o cosa dovremmo fare? Perché il super green pass verrà varato molto probabilmente domani e anche questo è un errore visto che la stretta si fa più stretta? Nello stesso editoriale in cui ho scritto quella frase scrivevo che quello che bisognava fare era agire su due fronti da un lato facilitare l'accesso alle terze dosi e in quest'ottica ci si è mossi nell'anticipare a cinque mesi proprio perché in questa maniera le persone possono iniziare a prenotarsi non c'è il rischio che si accavalli la scadenza con le vacanze e già mi stavano scrivendo tantissime persone che mi dicevano i miei sei mesi finiscono durante le vacanze di Natale, cosa devo fare? Quindi questa estensione dà una maggiore libertà e migliora appunto l'accesso alla vaccinazione. E dicevo che un passo era questo e l'altro passo era quello di introdurre il super green pass quindi esattamente nella direzione in cui è andato il governo. Il super green pass che ha come scopo quello di limitare la circolazione del virus e limitare in qualche modo la libertà, l'accesso ai luoghi di aggregazione e di svago alle persone non vaccinate. Perché? Perché ricordiamo che le persone non vaccinate in questo momento rappresentano un problema sanitario perché sono loro che vanno a riempire gli ospedali, a metterli sotto stress e quindi a causare poi il passaggio di fascia anche nelle varie regioni da da bianca a gialla. Professore Viola, quindi il super green pass dovrebbe valere da subito anche nelle regioni che sono a zona bianca? Cioè non aspettare che i dati peggiorino e diventino arancione o addirittura rosse? Assolutamente sì, secondo me dovrebbe valere subito proprio perché dobbiamo prevenire un aumento del numero di contagi ma soprattutto un aumento delle ospedalizzazioni. Ricordiamo che il nostro problema adesso sono gli ospedali, non tanto il numero dei contagi. Se tutti fossimo vaccinati, anche se ci fosse un aumento dei contagi questo non porterebbe a una maggiore ospedalizzazione, a uno stress a livello degli ospedali. Guardiamo appunto cosa sta accadendo in questo momento in Portogallo. In Portogallo c'è il 100% delle persone over 50 che sono vaccinate. Ebbene, negli ultimi settimane c'è stato un aumento della circolazione del virus ma non c'è stato un aumento degli ingressi in ospedale o in terapia intensiva. Perché? Perché il vaccino funziona e quindi se siamo tutti protetti nessuno finisce in ospedale. Massimo Giannini, quindi...